I carabinieri della stazione di Trani hanno tratto in arresto un 37enne di Biceglie, già noto alle forze dell'ordine per violazione della normativa sugli stupefacenti, poiché è ritenuto responsabile di un furto con destrezza perpetrato poche ore prima nel centro cittadino di Trani. Le operazioni sono giunte a termine grazie al lavoro certosino dei militari, che partendo dalla tempestiva denuncia della vittima, giungevano all'individuazione del presunto responsabile. Come verificato, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro cittadino, il malfattore, con disinvoltura passeggiando nei pressi delle autovetture parcheggiate sulla pubblica via, dopo aver osservato un'ignara signora che si accingeva a parcheggiare la sua utilitaria ed atteso che la manovra venisse ultimata, con un movimento fulminio è determinato l'individuo aperto alla portiera del veicolo, ha guantato la borsa della povera vittima e si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Riconosciuto in poco tempo dagli investigatori, quali soggetto già noto e residente nella città vicina di Biceglie, il malvivente è stato ricercato ed individuato qualche ora dopo a poca distanza dalla compagnia di carabinieri di Trani. I militari hanno rinvenuto perquisendolo gran parte della rifurtiva, e l'arrestato ha inteso svuotare il sacco, confessando spontaneamente il reato commesso, pur non giustificandosi in alcun modo. Posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, il 37enne è stato quindi condotto presso il carcere di Trani e dovrà rispondere di furto con destrezza. Grazie. 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 Grazie.